Musica Gianluca D'Agostino qui al Parque, Esperazione contro la fame, il suo contributo, che cosa ha preparato stasera? Ho preparato un piatto col baccalà, quindi molto della tradizione, baccalà mantecato con fagioli e cipolla agrodolce, molto semplice, molto tradizionale e questa stagione autunnale che ormai è alle porte. Perché le persone devono sostenere progetti come questi? Perché hanno uno scopo bellissimo di aiutare chi è meno fortunato di noi e quindi se noi abbiamo la possibilità di dare il nostro piccolo contributo, preparando in questo caso dei piatti, insomma, chi ha qualche possibilità di poter venire a cena da noi è giusto che doni qualche soldino per chi è meno fortunato. Allora, grazie Gianluca D'Agostino Veritas Restaurant, li invitiamo, contributo di tutti per una fondazione che veramente ha un sostegno reale per i bambini che purtroppo ancora muoiono per cattiva bambina. Sì, 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 quindi insomma generosità in questo caso, tanta generosità perché c'è gente che ha bisogno e quindi togliersi qualcosa per dare un sorriso a qualcun altro è una delle cose più belle che possiamo fare. Grazie. Grazie a voi.